Questa è stata una settimana un po' atipica perché lunedì e martedì sia Marinoni che Ganna sono state convocate ad un allenamento a Milano con la Nazionale Giovanile, tra l'altro Purtroppo Marinoni si è bloccata lunedì subito il primo allenamento e pertanto ha un problema alla schiena che difficilmente si risolverà per il weekend. Giocavamo contro il Torbole che è una squadra abbastanza esperta, una buona squadra dal mio punto di vista, ha vinto una partita in più di noi, però ha ben 5 punti in più, sarà una partita abbastanza difficile per le nostre condizioni più che altro, però sto vedendo che le ragazze, chiunque provo o metto in campo, si muovono bene, lavorano bene e comunque stanno crescendo tutte quante. Vediamo quanta capacità abbiamo noi di stare dentro a giocarci questa sfida che ci potrebbe accorciare un po' la distanza da loro. È l'ultima partita dell'andata, a termine di sabato faremo una piccola analisi un po' sull'andamento di questo campionato qui e proietteremo chiaramente quello che sarà l'obiettivo del girone di ritorno.